Musica Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo appuntamento di CiccioGamer89 Vedete che non ho più salvataggi ma bensì perché sto sull'Xbox di mio fratello Dato che c'è attaccato all'HDPVR E inizierò una nuova avventura, un nuovo mondo completamente da zero per voi ragazzi Ebbene così, cioè ebbene così, ebbene sì Quest'oggi sto registrando il live, quindi mentre gioco partita online Ma sì, lasciamola comunque la partita online, sti cavoli Accetta amici, nuovo mondo Allora, come lo chiamiamo? Ciccio Ciccio Gamer 89 E dai Semi per generatore mondo Cacca Pipi Gears Io YouTube YouTube Vabbè lasciamo così, non mi interessa E ciao Ok Difficoltà Adesso mettiamo relax Crea un nuovo mondo Chissà quale fantastica Mirabolante cosa ci potrà Apparire Allora Prima o poi finirà O che questo video ve lo faccio un po' più lungo Così almeno mi faccio perdonare che è un po' di tempo che non uppavo Minecraft E io penso sempre a voi, cioè quando mi scrivete nei commenti Per quello che vi dico sempre, commentate Perché se avete qualcosa da dirmi me lo dite E sono nato in mezzo all'acqua Ok, allora Facciamo Opzioni Comandi No Impostazioni Comando Sensibile al gioco Direi E possiamo andare anche un po' più su Grafica Gamma Ok Ok Meglio Meglio Allora Cambiamo skin Ah qui non ho il pacchetto Quello là Che lo bello Non fa niente Prendiamoci questa che ci attira tanto Perfetto Ok Allora Innanzitutto io direi Visto che ci siamo Ci andiamo a fare le pecurrelle Le pecurrelle Anche se Anche se Dovremmo avere Quello per Per Tosarle Ma a noi non ci interessa L'importante è avere tre cubetti Uno e due Vieni qui bella pecurrilla Bella pecurrilla Ok Tre Poi Oh mio dio Un campo di capre Cominciamo a farci il legno E incominciamo a farci il legno Comunque nel frattempo che disboschiamo qui la valle incantata Vi vorrei dire che Il video delle chat roulette Verrà molto probabilmente registrato il 20 agosto Vi pubblicherò un video apposito Se ci sarà quel giorno Comunque Chi vuole mi potrà cercare Su chat roulette Se vuole comparire nel video Insomma Praticamente basta avere Chatroulette.com Che è gratuito Una webcam E avere tanta fortuna Comunque non vi preoccupate Vi dico io quando sarà l'appuntamento A me farebbe molto piacere che Partecipaste Perché lo feci nell'altro canale Con 1600 iscritti Molti mi cercarono Pochi mi trovarono Però fu una cosa veramente divertente E magari Che ne so Facendo una scritta Ciccio gamer TVB Ciccio gamer Pussy O roba del genere Non lo so Quello che vi pare Insomma Ciccio gamer Ti voglio regalare dei soldi Ecco Queste sono cose Che potrebbero far piacere Allora Facciamoci il legno Gli stecchini E la tavola Da craft Allora 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 Ci facciamo Questo 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 E basta La spada Non ce n'è bisogno Momentaneamente E quindi Aspettate 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 Facciamo così E ce ne andiamo Un attimo sotto Comunque Il mondo Cacca pipì Pupù Popò Non è male Dai Il mondo Cacca pipì Ce l'ho solo io E ce l'hai solo tu Il mondo Cacca pipì Ce l'hai solo tu Ce l'hai solo tu Allora Ah Spero che vi sia piaciuto Il video Come Per il concorso Di nerd specialist Spero che sia stato Di vostro gradimento Abbiate pazienza Se il green screen Ancora non lo so usare bene Ma mano a mano Che andremo avanti I video Diventeranno sempre più belli Ne ne farò sempre di nuovi Allora io direi Che finiti questi due blocchi Ce ne possiamo Ritornare sopra E Farci qualcosa Di più Tecnologico Come questi Come questi Ne facciamo due Questi qua Questi qua Ma io ne farei ancora Se ne farei ancora Di questo E di questo E di questo Poi facciamo Questo via Questo via Questo via Questo via Questo giù Questo giù E questo giù Eh si signori Allora Prendiamoci gli alberrelli E Che minchia guardate E Incomincerei a fare Una casina Ora Voglio introdurre Una novità Prima io mi preparavo I video Almeno per questa serie Sarà così In anticipo Che ne so Registravo Un'ora e quaranta Poi dividevo il video E via Questa volta La voglio fare Differente Adesso Noi stiamo qui Viviamo questo mondo Insieme Diciamo Con questo maialino Che chiameremo Piggy Ciao Piggy E Praticamente A fine video Io vi Porgerò Un questionario Nel senso Dove volete che vado A destra A sinistra Sopra Sotto Vado a fare le grotte Vado a cercare diamanti Piri Voi Lasciando il commento E il pollice in su Chi avrà Cioè Più commenti ci saranno Uguali E più io prenderò Quella Quella decisione Spero che questo vi piaccia Così almeno vi faccio Più partecipi Che a me piace Farvi partecipi E ricordate Che se avete qualcosa Da dire sul canale Sui video Su qualsiasi cosa Io non mi offendo Perché comunque Il canale Diciamo che io lo faccio Pure per voi Cioè Qui mi fa piacere Che voi ci passate Il vostro tempo Quindi se c'è qualcosa Che non va bene Oh Vorreste Qualcos'altro Non lo so Se avete dei consigli Sono ben accetti Io sto qui per questo No Avrò disboscato Non si sa quanta Ok Penso che dopo questa Basti Allora Certo dovremmo trovare Un posto Magari migliore Allora Però anche se qua Ma si Io la faccio qua Ma si 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 Intanto Mettiamo a posto Questa è la mucca Mumu La mucca con gli occhiali Andiamo una sistemata Qui Ok Ok Che Su minecraft Le cose sono Sono più belle Se sono belle Precise Sistemate Dato che comunque È abbastanza difficile Non farle così Mi potete dire anche Quanto volete che Zetto il livello Di difficoltà Cioè insomma potete dire Quello che vi pare Non è Non è un problema Mucca Se ne vada Eh ho capito Eh sa rabbia Allora Uno Due Facciamo Uno Due Tre Porta Uno Due Tre Angolo 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 Giusto Perfetto Si perfetto Si perfetto Poi Uno Due Tre Qui non c'è la porta Uno Due Tre Così Uno Due Tre Così E Angolo Uno Due Tre Porta Uno Due Tre Angolo Perfetto Perfetto Uno Due Uno Due Facciamo un'altra porta Ok Scusate ma ho messo troppo La sensibilità E Quando vado giù Diventa un problema Ok Nel frattempo Sta diventando Buio E la casa Non è pronta Acciterbolina Mi sono anche Dimenticato Di Naccia Mo potevate Di Dai Chi mi dice Che cosa Mi sono dimenticato Dai Ci avete qualche Secondo Prima che lo faccio Troppo tardi Mi sono dimenticato Di fare la fornace E di cuocere Il legno Per fare Che cosa L'antracite Bravi Bravi Mucca Non è cattiveria Ma Eh ho capito Cazzo Mettiamo qui Mettiamo questi qua Almeno un po' di luce Ce l'abbiamo Allora facciamo Uno Due Facciamo così Qui ci faccio Allora qui Io farei Qui vanno le porte Qui va la porta Qui va la porta E farei tutti i specchi C'è specchi Tutti Uno Due Tre Allora Ma avete detto Che le porte Vanno da fuori Perché l'altra volta Un ragazzo Mi ha fatto Ciccio guarda Che le porte Vanno da fuori Io vido retta E le porte Andranno da fuori E voilà Senza problemi Ragazzi Senza problemi Ok Che cosa mi manca Intanto facciamo così Prendiamo questo Facciamo ancora questi Poi Ta 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 Ok Abbelliamo un attimo Allora Qua 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 E qua Ok Il problema è Mi manca la legna Mi manca la legna Mi manca la legna Che palle Mi manca la legna Mi manca la legna Il letto Mi manca la legna Ok Ok No qui non c'è bisogno Mi devo avventurare di notte A caccia di legna Dan 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 Ciao maialino piggy Allora non ci vedo niente Perché io non gioco con Con la visuale Quella là Che si vede meglio Ma non so come dirvelo Qui o qua Il legno non lo vedo E sicuramente Non lo vedrete Neanche voi Quindi boom Sprechiamo Mettiamoci una torcia Così almeno ci vediamo tutti Perché ci sono certi ragazzi Che fanno i video di minecraft Che loro mettono la visuale L'opacità Non lo so che cos'è Al massimo E nei video non si vede niente Mi dà un fastidio Invece visto che io vi voglio far vedere Tutto quello che faccio Vi spiazzo le torce ragazzi Ah questo è un mega albero Comunque vi consiglio il generatore Che a quanto pare È buono Però zitti È un nostro segreto Allora Oh il maialino Piggy Piggy Ormai sei in trappola Piggy no Piggy no Non potrai più uscire Da questa casa Piggy Ormai siamo troppo affezionati Di a te Piggy 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 scendi Piggy scendi Non si fa Bravo Cattivo maiale Allora La facciamo di tre O la facciamo di quattro La casa Non ne ho la più palida idea Oddio Piggy due Oh mio dio Vabbè Non lo so Non so che dirvi Facciamo di tre Però viene bassa Quattro Allora facciamo così Dai Questa è la prima La prima decisione Che prenderemo tutti insieme Con il nostro maialino Piggy La casa Di quanto vogliamo farla Alta Nel senso La vogliamo fare a due piani Bella alta Cioè non lo so Vogliamo aggiungere un'altra stanza Qui sopra Quindi Decidete se fra Quattro cubi Quindi da qui E poi parte il soffitto O se la vogliamo fare a due piani E se volete un'altra stanza Qui Comunque grande come questa Detemi un po' voi Sui commenti Vi ringrazio per avermi seguito Vi prego di me Cioè vi prego Se il video vi è piaciuto E vi piacerà questa serie Vi Vi esorcizzo No Non è esorcizzo Vi esorto Insieme al nostro maialino Piggy A mettere pollice in su Ragazzi Fatemi sapere Quindi Volete due piani O iniziamo da qui Praticamente A fare Il tetto Sta a voi Bella ragazzuoli Ciao